Una delle applicazioni più importanti quando viene terminato un montaggio video è quella della realizzazione della color correction, ossia andare a lavorare su quelli che sono i colori. All'interno di Adobe Premiere Pro sono stati uniti tutta una serie di pannelli dedicati alla color correction ed è stato introdotto quello che è il pannello di colore Lumetri. Questo pannello è richiamabile mediante un effetto che viene applicato alle nostre clip o ad un adjustment layer, ma Adobe ci mette a disposizione un determinato pannello che è il pannello colore che una volta selezionato ci riemposterà la nostra interfaccia totalmente dedicata alla color correction. Le parti fondamentali e più importanti naturalmente le notiamo sono l'oscilloscopio di Lumetri che abbiamo la possibilità di andare a variare per vedere l'istogramma, per vedere l'allineamento RGB che sono dei parametri molto più tecnici quando si va a realizzare una color correction e che non fanno parte del corso base di Adobe Premiere Pro perché parliamo delle basi del montaggio all'interno di questo fantastico software. Mentre parte molto importante che ritroviamo all'interno di questa schermata è quello che è il pannello colore Lumetri. Ora se selezioniamo la nostra clip e andiamo nel pannello controllo effetti vedremo che nel momento in cui andremo a modificare uno qualsiasi di questi parametri verrà applicato quello che è l'effetto Lumetri alla nostra clip. Ora cominciamo da quelle che sono le parti basilari. Abbiamo la prima parte che è detta correzioni di base e ci permette di importare una LUT e la vedremo nella prossima lezione. Abbiamo la possibilità di andare a correggere il bilanciamento del bianco mediante la temperatura e la tinta. Temperatura e tinta naturalmente sono dei valori il primo fa tendere l'immagine verso colori freddi o colori caldi mentre l'altro sposta la tinta dal verde al magenta. Questi due parametri sono molto importanti perché ci permettono di andare a bilanciare il bianco delle nostre immagini. Per velocizzare il processo abbiamo la possibilità grazie a questo color picker di cliccare, selezionare il nostro punto di bianco all'interno della nostra scena e lasciare. Così facendo in automatico verranno settati dei parametri che comunque possiamo andare a piacimento a modificare se vogliamo un'immagine leggermente più calda o leggermente più fredda. Appena ho modificato questi valori come detto all'interno del pannello controllo effetti è stato applicato l'effetto colore lumetri che sostanzialmente riporta tutti questi parametri e tutte queste spunte e tutto naturalmente modificabile anche dal pannello controllo effetti. Naturalmente per comodità dato che abbiamo a disposizione un pannello completamente dedicato possiamo utilizzare questo. Andiamo avanti abbiamo poi tutte quelle che sono le modifiche al tono della nostra immagine quindi abbiamo un controller per l'esposizione per aumentarla per abbassarla, il controller per il contrasto per alzare o abbassare il contrasto, il controller per le luci per abbassare o alzare i punti di luce o ancora per abbassare o alzare le nostre ombre e con lo stesso concetto abbiamo la possibilità di abbassare i punti di bianco oppure alzarli o addirittura abbassare i punti di nero ed alzarli. C'è differenza naturalmente tra le luci e i punti di bianco e tra le ombre e i punti di neri. I bianchi e neri sono essenzialmente i punti bianchi e i punti neri che vengono esaltati mentre per quanto riguarda il concetto di luce ombre Adobe Premiere Pro fa una selezione di quelle che sono le nostre luci e quindi le andrà ad alzare o ad abbassare quindi mantenendo quella che è la loro struttura, la struttura dell'immagine stesso concetto si applica alle ombre. E questo è il primo pannello dedicato a quelle che sono le correzioni di base. Abbiamo poi il pannello creativo. Ora questo pannello lo vedremo nella lezione successiva e serve ad aggiungere dei look alle nostre immagini ma essendo questa lezione parliamo solo del pannello lumetri e delle tecniche di correzione del colore quindi questo pannello lo vedremo nella lezione successiva. Abbiamo poi il pannello dedicato alle curve. In passato per utilizzare le curve all'interno del Adobe Premiere Pro dovevamo aggiungere gli effetti la nostra clip. Beh adesso è tutto integrato all'interno dell'effetto lumetri e quindi del pannello colore lumetri e abbiamo la possibilità di andare a modificare le nostre curve di colore selezionare la master selezionare solo le curve di vari colori rosso verde o blu e poi abbiamo questa nuova integrazione da diverse da poche versioni a questa parte che ci permette di con uno strumento totalmente diverso andare a gestire quelle che sono tonalità e saturazione la tonalità su tonalità e la tonalità sulla luminosità o ancora luminosità sulla saturazione e la saturazione sulla saturazione. Allora è più complesso leggerlo che spiegarlo e mostrarvelo. Allora caso tonalità su saturazione. Andiamo a decidere una determinata tonalità e decidiamo se volerla saturare di più o meno. Ho scelto il giallo che è l'unico colore che proprio manca. Prendiamo ad esempio il blu come potete vedere in questo lato qua dell'immagine. Grazie a questo selettore posso selezionare solo il punto di blu e andare ad esaltarlo tantissimo. Quindi sto selezionando una tonalità e saturandola. Facciamo lo stesso esempio tonalità su tonalità. Se vado a selezionarmi lo stesso punto di blu posso andare a variare la tonalità solo di quel colore. Quindi se voglio ad esempio che il blu tenda leggermente al ciano posso semplicemente alzarlo un pochino così. Oppure se voglio che ad esempio i rossi tendano un pochino più non so al giallo. Vedete la linea che viene indicata ci dice dove stiamo andando. Possiamo fare una cosa del genere. Questione di luma. Abbiamo ad esempio i rossi che sono piuttosto scuri. Quindi noi prendiamo un punto di rosso andiamo a tirarlo su e come vedete solo gli elementi che faranno parte della curva dei rossi verranno esaltati sotto forma di luminosità. Questo è molto importante perché questo ci permette di fare un color grading piuttosto avanzato perché abbiamo la possibilità di costruire e ricostruire quelli che sono colori. Quindi ricostruiamo l'immagine e viriamo i colori dove abbiamo intenzione di farlo. Per andare a capire questo quest'altro parametro con questo parametro noi possiamo andare a selezionare una determinata tipo di luminosità e andarne a variare quella che è la saturazione. Vi faccio un esempio. Utilizziamo il color picker e andiamo a selezionare questo punto qui. Questo punto qui di luminosità viene definito all'interno del nostro pannello in questo punto. Quindi noi andremo a saturare o desaturare quel determinato punto con questo controller qui. Essendo naturalmente questa zona già molto luminosa la saturazione non la vediamo ma è uno strumento molto utile. Stesso concetto lo possiamo applicare tra saturazione e saturazione. Quindi andare a scegliere ad esempio questo punto qui di colore e andare a decidere se solo quella determinata sfumatura di colore andare ad abbassarne la sua saturazione o meno. Quindi abbiamo questo fantastico strumento che ci permette selettivamente di andare a trattare quella che è la saturazione. Passiamo al pannello successivo. Naturalmente come noterete ci sono delle spunte accanto a questi pannelli. Togliendo la spunta viene deselezionata la nostra correzione ma possiamo tranquillamente riattivarla anche in un secondo momento. Mentre con questa spunta qui andiamo ad azzerare tutti i valori. Altra cosa molto conosciuta è quello che è tradotto in italiano e corrispondenza a ruote colori. In pratica stiamo parlando del colore a tre vie. Effetto molto conosciuto all'interno di Adobe Premiere Pro. Ora lo ritroviamo qua all'interno. Abbiamo la possibilità tramite questi controlli molto interessanti di andare ad abbassare la luminosità solo delle ombre, dei mezzi toni o delle luci. Oppure ad utilizzare la ruota dei colori per permettere il viraggio. Ora io sto cliccando con il tasto sinistro del mouse e tengo premuto e come vedete il mio cursore va piuttosto lentamente. Questo perché per una maggior precisione possibile nella selezione del colore. Ma se vogliamo muoverci molto più velocemente ci basterà premere il tasto shift sulla nostra tastiera contemporaneamente al tasto sinistro del nostro mouse per permetterci di muoverci molto più velocemente all'interno della ruota del colore. Per resettarla ci basterà fare un doppio clic all'interno della nostra area. Altro campo molto interessante è quello dell'HSL secondario. Questa cosa ci permette di creare una sorta di maschera partendo da un colore di base per poi andarlo a colorare in un secondo momento. Questo strumento infatti ci permette di realizzare una chiave di un determinato colore per poi andarlo a colorare con questi strumenti che abbiamo qui. Vi faccio un esempio pratico. Vogliamo selezionare solo il cielo. Bene abbiamo lo strumento per impostare il nostro colore andiamo a cliccare il nostro cielo. Non è cambiato nulla se non qui all'interno. Questi sono i selettori del colore che hanno selezionato questa tipologia di colore qui. Bene ora per vedere quella che è la nostra selezione abbiamo questa spunta che una volta cliccata ci dà la possibilità di scegliere di vedere la nostra selezione colorata su grigio, colorata su nero oppure bianco e nero. Quindi vediamo proprio la nostra maschera. Decidiamo di utilizzare il colore su nero e andiamo ad sistemare quelli che sono i nostri parametri perché noi possiamo andare con il nostro cursore a modificare leggermente quelle che sono le nostre selezioni come ad esempio aumentare leggermente quelle che sono le sfumature oppure abbiamo la possibilità di andare ad aggiungere dei colori, delle sfumature di colore, come selezionando il color picker con il più abbiamo la possibilità ad esempio di andare a fare quest'altra selezione. Andiamo a vedere la nostra maschera che è stato aggiunto un pezzo di colore. Ancora voglio aggiungere anche questa parte qua di bianco perché mi interessa che questa sfumatura di bianchi venga interessata da questa color. Bene diciamo che abbiamo realizzato quella che è la nostra maschera. Abbiamo adesso degli strumenti per poterla rifinire. Abbiamo la riduzione del disturbo della nostra maschera che andandola ad alzare ridurremo la possibilità che la nostra maschera crei dei fastidiosi artefatti e abbiamo poi la possibilità di sfocare quelle che sono le nostre aree non selezionate. La combinazione di questi due elementi ci permette di creare delle maschere che abbiano meno artefatti possibili. Una volta eseguita la nostra selezione della nostra maschera possiamo passare alla color solo di questa selezione. Come? Andando ad esempio ad utilizzare una rota di colore oppure a variarne soltanto la temperatura o ancora utilizzare lo strumento per aumentare la nitidezza, per aumentare la saturazione o abbassare il contrasto. Quindi abbiamo questa serie di opzioni molto interessanti per colorare solo questa zona. Per vedere il risultato finale ci basterà se deselezionare questa spunta che ci seleziona la maschera. Beh il risultato in questo momento non è proprio dei più gradevoli ma come potete notare abbiamo creato una selezione specifica e abbiamo colorato solo quella determinata selezione. Ultima voce che troviamo all'interno del pannello colori unumetri è quella dedicata alla vignetta. La vignettatura è uno strumento molto interessante per creare e focalizzare l'attenzione su un determinato elemento. Come si fa? Beh semplicemente abbiamo il primo slider che ci permette di creare una vignetta nera o una vignetta bianca abbastanza sfocata quindi possiamo anche decidere qual è il grado della vignetta che vogliamo. Il secondo punto che decide ci dà il punto medio quindi il punto medio del raggio della nostra vignetta abbiamo poi la possibilità di renderla più quadrata o più tonda e quella poi di aumentare quella che è la nostra sfumatura. Grazie a tutti questi parametri all'interno del pannello colore lumetri abbiamo la possibilità di colorare le nostre immagini e di realizzare dei fantastici lavori.